salve benvenuti a un nuovo unboxing sono letteralmente sommerso di pacchi questo è alto un metro e una banana non so neanche dove metterlo devo trovare una stanza più grande e sta diventando un problema questa cosa poggiamoli qui per il momento oh ragazzi bentornati ad un nuovo video sto registrando in condizioni pietose quindi scusate il casino scusate la barba da alpino da castaway che non si rade da una settimana però sono appena tornato dal lavoro mi sono arrivati in contemporanea oggi quattro pacchi che non aspettavo meglio uno lo aspettavo due sono ignoti e quindi ho pensato facciamo un video unboxing che sono sempre carini riempiono sono a voi piacciono perché vedete le cose che arrivano a me piacciono perché anche a me piacciono le cose che arrivano sono rincoglionito e quindi direi sì video riempitivo no dai è un bel content l'unboxing o no carino coltello intanto che scelgo da quale pacco partire voi approfittate per iscrivervi al canale ok dare un'occhiata ai link in descrizione vi lascio ovviamente i link alla roba che mi è arrivata in più trovate il mio patreon se volete supportarmi il gruppo telegram il mio videocorso il mio shop tante cosine voi dateci un'occhiata io intanto scelgo quale aprire io direi partiamo da quelli ignoti questo qui arriva in un pacco prime ma non ho ordinato io immagino qualche azienda carina molto carina sempre carina le aziende che mandano pacchi noi piace ricevere i pacchi dalle aziende e piace anche a voi perché poi i prodotti che mi mandano le aziende e che non uso perché non posso utilizzare tutti e ve li regalo nei giveaway quindi altro buon motivo per iscrivervi se ne è appena concluso uno da poco attenzione partiamo col botto è un microfono e ce lo manda tonor grazie tonor non avevo mai collaborato con tonor però è il primo brand che vi esce su amazon quando cercate un microfono economico è un microfono usb dovrebbe essere anche abbastanza piccolino molto curioso sono alla ricerca di un mini microfono da portare con l'ipad in mobilità speriamo sia figo lo apro al volo ma poi ve lo recensisco quante belle cosine non vi faccio spoiler ok ok no non posso fare spoiler ragazzi mi spiace dobbiamo salvarlo per la recensione salviamo il content aiuto secondo pacco questo qui completamente ignoto non c'è neanche la roba di amazon un poste italiane crono economy minchia mi tente però anche qui una srl che minchia è ah ma sono delle no che non c'entra un cazzo con il canale sono le tazze della nutella eh questa qui è una stronzata mia sono le tazze della nutella avevo ordinato avevo comprato dei prodotti ferrero e ti regalano le tazze vabbè non c'entra niente con il canale però se siete fan della ferrero potete farvi mandare anche voi le tazze e niente vabbè non c'entrava niente con l'unboxing però sono felice che siano arrivate perché pensavo fosse uno scam questo questo arriva da musical store 2005 sempre carini sempre gentilissimi questo qua so che cos'è perché glielo ho chiesto io è una roba che mi hanno mandato in prova ma che io esplicitamente chiesto io e va di pari passo con il pacco gigante che avete visto prima quindi potete farvi un'idea di che cosa ci sia là dentro musical store 2005 che imballa sempre in maniera strettissima cioè lupen se ci si impegnasse non riuscirebbe ad aprire i pacchi e tra l'altro vi racconto questa roba io ho fatto quest'ordine ieri e i prodotti stamattina erano qua musical store 2005 sta battendo amazon e io sono sempre più un loro fan eccolo qua l'imballaggio nell'imballaggio musical store qualche volta vi ci voglio portare da musical store perché donato oltre ad essere un caro amico e anche vicino di casa in puglia dove abitano sono i miei quindi scrivete nei commenti vi va se facciamo una gita da musical store qualche volta facciamo un vlog comunque mi è arrivato eccolo qua bellino i rig acoustic stage non so se vi ricordate io ho già recensito l'i rig acustico originale questo qui è sostanzialmente un microfono che voi attaccate appiccicate letteralmente alla vostra chitarra e dovrebbe registrarla con la qualità di un microfono da studio o meglio se siete in casa e avete un'acustica di merda il primo mi era piaciuto ma non abbastanza da utilizzarlo in studio questa qui è la versione professionale e arriva con un preamplificatore scatoletta che fa anche da scheda audio e non ha bisogno per forza del telefono collegato quindi sono curiosissimo di provarlo ve ne parlerò e arriviamo adesso al pezzo forte la creme della creme opla fatti 2 più 2 vediamo se riuscite a capire cosa ho ordinato io devo anche fare attenzione perché sono in mutande e questo pacco è grosso io non so come aprirlo non devo farvi vedere le mie grazie quindi lo aprirò in questo modo scusate se questo l'ho acquistato non è un prodotto in prova o in recensione e mi sono ordinato ovviamente dal lato sbagliato si è dal lato sbagliato ovviamente mario attenzione ho comprato una nuova chitarra vediamo se indovinate che chitarra ho comprato vi do tre secondi scrivete nei commenti che chitarra ho comprato secondo voi sicuramente avrete sbagliato e sto sudando come un animale guardate com'è dinamico questo unboxing sto facendo anche esercizio fisico tra l'altro la scatola dice di aprire da questo lato e noi obbediamo perché siamo persone obbedienti ho comprato una strato caster no ho comprato una telecaster no ho comprato una chitarra acustica della fender buuu immagino tutti quanti nei commenti ma le acustiche della fender fanno tutte cagare no non avete capito niente perché ho preso non un'acustica normale ce la faccio oh che bella guardate che figa ho preso una mini chitarra della fender ho preso una redondo mini della serie california vediamo se si vede e non lo metterà mai a fuoco però è bellissima perché una mini chitarra con il manico di una strato caster anche la paletta di una strato caster è fighissimo veramente veramente figa e poi chiaramente ve la porto e la recensisco la provo me l'accordo e vado a giocare perché non resisto più fatemi sapere se volete che ve la provi l'ho presa perché chitarra piccola in un studio secondo me è meglio io ho una chitarra enorme che fa un casino della madonna e mi rendo conto che in un studio non no 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 perché casa periti piccole suono rimbomba ovunque no quindi voglio sperimentare con una mini chitarra vi faccio sapere vi faccio sapere come va è veramente bellina è super economica e i materiali sembrano super premium vado vado a giocare noi ci vediamo a un prossimo video grazie per essere stati con me e iscrivetevi al canale ovviamente iscrivetevi al canale sempre se no che ci sto a fare qua grazie a tutti grazie a tutti